Carissimi amici, carissime amiche, salve a tutti e benvenuti sul canale. Ora, in questa settimana che inizia, noi abbiamo preso un impegno, tutti quanti insieme, quello di non far scendere l'oblio, non far scendere la dimenticanza su alcuni casi e anche su quello di Pierina Paganelli. Perché Pierina Paganelli è quella donna che nella notte tra i 3 e i 4 ottobre dello scorso anno venne barbaramente uccisa con 29 coltellate a Zimini. Se ne sono dette di tutti i colori su questo caso. E' inutile che ci ripetiamo, ma il fatto sta, il fatto principale qual è? E' che al di là dei mille sospetti, dei mille indizi, dei mille si dice, abbiamo che gli inquirenti sono circa sei mesi che non hanno preso ufficialmente alcun provvedimento di rinvio al giudizio, di iscrizione nel registro degli indagati, niente, assolutamente nulla. Però certamente le indagini stanno proseguendo perché ogni tanto si vede la gente che vanno lì, fanno misurazioni, eccetera. Quindi si sta continuando e una risposta, insomma noi la dobbiamo avere, non tanto noi, ma sicuramente i parenti, i figli. Lo stesso Giuliano, il figlio di Pierina, che riduce da quei gravissimi problemi che ha avuto e che posebbe tanto una parola di verità. Quindi io ringrazio tutti voi che mi incoraggiate ad andare avanti e a parlare, a parlare di questo caso anche in assenza di novità. E noi ne parleremo sempre, finché non ci sarà qualcuno che dica il caso si chiude perché ci sono queste evidenze e quindi noi ne prenderemo atto. Ora che cosa vi voglio dire? Vi voglio parlare di qualche osservazione che qualcuno di voi mi ha fatto, come Carmen che mi dice che torna un po' su quella famosa immagine della telecamera delle 19.30, che vedrebbe Luis camminare non soppicando. Ora, la riflessione è questa, vedete? Se lui effettivamente camminava senza zoppicare sotto quella telecamera, e allora è ovvio che l'idea va anche al fatto che l'incidente del giorno prima, e allora si dovrebbe pensare che nemmeno l'incidente sia vero, perché se è vero l'incidente dovrebbe essere vero anche l'infortunio al ginocchio. Vi trovate? Quindi, ancora un passo in avanti secondo una logica, qual è? È che se qualcuno è in grado di organizzare addirittura, partendo dal giorno prima, un incidente finto del giorno prima, e allora non ci si deve meravigliare più di nulla. Allora si è capace di tutto. A questo punto bisogna dire, e questi si sono messi così a tavolino, a pensare per settimane, per mesi, a una cosa del genere. Perché poi questo incidente a sua volta diventa pretesto per l'invito a cena, perché l'invito a cena è scattato, l'invito a cena di Loris, il fratello di Manuela, è scattato proprio perché Loris va a trovare Lewis, e quindi si intrattengono lì a casa di Manuela, e scatta l'invito a cena. Quindi dobbiamo pensare che tutto ciò sia concatenato. Allora qua ci troveremmo di fronte a dei professionisti del crimine. Da questo discende dall'immagine di quella telecamera, capite? Poi ci sta quest'altro contatto denominato ECO228, che dice, per me io ho maggiori sospetti su Loris, perché Lewis non ha quell'odio tale, non poteva avere quell'odio tale da dare 29 coltellate. Mentre Loris vive, diciamo, una sorta di simbiosi con la sorella. Ovviamente noi non possiamo dire sì, è così, è un'ipotesi, un'ipotesi, però dobbiamo essere sempre molto cauti, perché noi non possiamo fare queste solo ipotesi, che però non trovano, come dire, nessuna corrispondenza nel momento in cui non ci sono avvisi di garanzia. Certo una cosa la possiamo dire, un'opinione, cioè se noi vediamo quelle foto, quelle foto delle 22, 46, 22 e 48 di Loris, quelle foto attese, e appare, appare, perché se uno non lo contestualizza, dice guarda queste foto, queste foto, fatte vedere a una persona che non conosce il caso, dice sono foto di una persona esausta, spossata, esausta, buttata a terra, sporca, sudata. Come può essere, mi chiedo, certamente se quelle dovevano essere foto, di un finecina passato così normalmente in compagnia di una sorella e di una nipote. È quello che non mi convince. Poi c'è Giuseppe che dice, per me Valeria protegge Luis a tutti i costi. Certamente l'atteggiamento è un atteggiamento di protezione, ma più che un atteggiamento di protezione, credo che sia anche un atteggiamento per attribuire delle colpe ad altri, in particolare a Manuela. E questa è una svolta abbastanza importante. Perché? Perché fino a poco tempo fa non si facevano mai ipotesi di compromissioni di qualcuno di loro. La svolta l'ha data effettivamente Valeria, perché le parole hanno un peso. Hanno un peso. Nel momento in cui Valeria dice, c'è qualcuno, qualcuno che fa la regia e che fa in modo di dare le colpe, di convogliare le colpe addosso a mio marito Luis, è ovvio che questa regia non può essere una regia televisiva, non può essere una regia del passante occasionale. si rivolge sicuramente a Manuela. Tant'è che Manuela reagisce e dice, io non capisco perché queste cose si debbano dire. Però intanto siamo di fronte ad un'accusa specifica. Poi c'è Anna che dice, all'inizio, sì, all'inizio i quattro erano in un accordo totale finché non è uscito appunto il particolare dell'amante. E sì, questo è vero, è vero perché se voi ricordate i primi tempi quando si vociferava questo fatto dell'amante veniva negato da tutti. Prima che uscisse fuori la storia in modo ufficiale veniva negato da tutti. Lo stesso, ricordo, lo stesso consulente Barzani diceva assolutamente non esiste questa cosa, solo rapporti di amicizia, di buon vicinato. Poi cosa succede? Che gli inquirenti convocano più volte Valeria, la mettono davanti a delle evidenze che non è il chiacchiericcio del condominio ma in evidenza magari foto, messaggi, perché poi tutti i cellulari sono stati, diciamo, sequestrati, copie forenze, eccetera, per cui l'hanno messa di fronte al fatto che era inequivocabile che esistesse questa storia ed a quel momento ecco che man mano Valeria ha deciso di tirarsi indietro quindi hanno preso altri consulenti, altri avvocati e è cominciata una guerra interna. Poi c'è un altro contatto, un user senza nome che mi dice una cosa importante che per quanto riguarda quella famosa frase detta da Loris giustizia divina è stata fatta rivolta a Lewis ipotizza questo amico che non era un feedback ma un cenno di intesa fra i due. Questa è un'altra ipotesi parliamo sempre di ipotesi però certamente è un'ipotesi che potrebbe anche essere perché l'altra ipotesi che ci dice Loris cioè che questa sua espressione era un'espressione come quasi quasi di provocazione il cosiddetto feedback di provocare una reazione di vedere chi potesse essere allora è doppiamente strano perché è inconcepibile che tu per prima lo dica a quello che dovrebbe essere il tuo amico il tuo grande amico quindi arrivi sulla scena del crimine e cosa fai per prima cosa vai dal tuo amico dal tuo grande amico e gli dici tu hai ucciso sei stato tu ad uccidere questa donna quindi giustizia divina è stata fatta non non seggia a livello logico poi quando egli dice no ma io poi questa cosa l'ho detto a tante persone per fare questa prova di indagine fatta in casa a me e ad altri non risulta che ci sia nessun altro che abbia detto sì in effetti l'odice mi ha domandato la stessa cosa ha detto la stessa affermazione anche a me allora se non emergono queste 7, 8, 10, 15 persone alle quali è stata rivolta la stessa frase allora noi dobbiamo pensare se è così se è così dobbiamo pensare che la frase è stata diretta solo a Luis allora dobbiamo chiederci ma perché è stata diretta solo a Luis cioè tu arrivi con una donna ancora lì a terra attinta da 29 coltellate in quella situazione e dici giustizia divina è stata fatta ma ci rendiamo conto della gravità però magari non significa nulla poi c'è Arina che dice forse gli inquirenti stanno aspettando che qualcuno crolli e scusate un po' il sorriso su questa frase però ecco può crollare la fiducia però anche può crollare la fiducia perché aspettiamo sempre settimana dopo settimana che ci sia qualche novità poi Marta Marta dice parlo di questi 2000 euro dati a Luis però questi 2000 euro e questa è un'altra riflessione che faccio io questi 2000 euro dati a Luis che praticamente per fare un lavoro del genere o perché Luis li desse non so a un suo amico per fare un lavoro del genere questa cosa qui che se ricordo bene viene detta dalla stessa Emanuela di questa adazione di soldi che poi è tutto anomalo fuori da ogni illogica il fratello la cassaforte che non funzionava ma che cosa voglio dire se noi abbiamo presupposto che quindi qualora la responsabilità fosse in capa loro che hanno organizzato tutto nei minimi dettagli perfino quell'incidente di Luis se noi pensiamo questo allora possiamo mai credere poi che ci sta una discesa nel dilettantismo più assoluto perché perché poi che cosa si fa si prende questi questi 2000 euro si danno a a Luis e si dice pure di averli dato ma con quale logica nel momento in cui dice di averli dati seppure fossero stati utilizzati per fare una certa cosa allora voglio dire c'è un mandante tu sei il mandante quindi una forma di responsabilità è analogo a quella che ha compiuto il gesto quindi qualora voglio dire ci sia stato un sicario con un mandante il rapporto tra sicario e mandante necessariamente è un rapporto di segretezza è qualcosa che non esce fuori non è che si dice ah io ho dato i soldi così si capisce che i soldi per che cosa sono serviti no assolutamente no poi Lorena dice forse la tattica è quella degli inquirenti di far crollare l'anello più debole ecco perché stanno venendo fuori tutte queste notizie su Lewis potrebbe anche questo essere vero ma certamente certamente ciò che è venuto fuori negli ultimi tempi è appunto questa figura di colore e ci sta poco da dire o diciamo che le notizie che filtrano non sono vere ed è un conto ma ciò che è filtrato è che ci sono anche le telecamere di le immagini scusate di un'altra telecamera panoramica che avrebbe visto seppur sempre le immagini notturne una figura di colore uscire dal postoncino vicino a quello di Pierina e andare in direzione verso diciamo i contenitori della spazzatura poi 22 e 20 si vede stavolta ripresa dalle immagini della telecamera della farmacia sempre una figura di colore che però rientra nel postoncino dove abitava Pierina quindi si può ipotizzare diciamo che quella sia un'andata e un ritorno quindi questo è importante perché se quell'uscita è solo di andata allora noi possiamo pensare che c'è un qualcuno che scappa via se ne va via da quel condomino ma se dobbiamo ipotizzare che c'è un'uscita per buttare magari qualcosa e poi c'è una entrata è ovvio che si riconduce la figura a un abitante del condominio e se questa figura è diciamo confermata di colore e lì di colore c'è solo Luis che abita non è che ci sono altri che abitano allora potrebbe essere tutta una messa in scena per incastrare Luis allora si potrebbe pensare che si fa questa messa in scena perché poi questa persona di colore che rientra magari se ne va via per un'altra uscita più lontana allora è tutta una messa in scena ma allora siamo davanti veramente a dei professionisti del crimine perché se uno arriva a fare tutte queste idee così strane così complicate veramente peggio di un film di Hitchcock voglio dire allora sono allora dobbiamo dire qua si troviamo di fronte a dei professionisti tante cose non torno quello che però dice Paola questa altra amica Paola dice una cosa molto giusta è che alla fine l'unica cosa che ci conforta sapete qual è è che siamo a sei mesi più o meno circa adesso siamo a sei mesi dal triste episodio per cui noi sappiamo che le indagini nei sei mesi devono essere chiusi chiusi normalmente con magari visita di garanzia richieste di invia a giudizio oppure proroga delle indagini in questo caso credo almeno sicuramente che ci sarà una proroga delle indagini ma se c'è proroga delle indagini pure è qualcosa di importante perché la proroga si dà o si chiede quando ci sono degli elementi che inducono a dover andare avanti altrimenti si chiude e si dice non è emerso nessun elemento ci dispiace non soppiamo nessuno è indiziato di nulla quindi si chiude così perché non c'è invece in questo caso in cui sembra tanto tanti elementi così che si affastellano sicuramente ci dovrà essere una conferenza stampa qualcosa si dovrà sapere se ci saranno degli avvisi di garanzia o almeno una richiesta di proroga motivata ovviamente e quindi sicuramente qualcosa dovrà venire fuori non è che ci può essere un passaggio di tempo così tacito senza notizie quindi seguitemi seguitici qui sul canale e cerchiamo di condividere sempre sui social sui vostri amici sui social con i vostri contatti perché questo è l'unico sistema per fare in modo che il messaggio arrivi quindi anche per far crescere il respiro diciamo di questo canale grazie grazie mille vi voglio bene grazie buona settimana a tutti un abbraccio